Buongiorno a tutti, questa breve introduzione da casa mia naturalmente per presentare un saggio realizzato da alcuni allievi della scuola d'Upre durante questo periodo di quarantena tramite la didattica a distanza. Sono molto orgogliosa di questo lavoro fatto dai nostri allievi perché si sono impegnati molto, non è facile lavorare con la didattica a distanza però alla fine si può e si possono ottenere anche dei buoni risultati. I brani che ascolterete non sono perfetti, naturalmente c'è ancora molto da lavorare però io mi sono sentita di pubblicarli perché dimostrano che comunque anche se è difficile possiamo e dobbiamo continuare a lavorare. La musica ci è vicina, ci sostiene e non dobbiamo rinunciare o rallentare in alcun modo il nostro percorso di studi. Allora io vi sono vicina e tutti gli insegnanti della scuola d'Upre siamo sempre con voi e con questa musica vi lascio e vi mando un calorosissimo abbraccio. A presto, risalirlo! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.